Ciao a tutti, sono Lino Lardo, l'allenatore dell'accessistica Sansevero e ho un bel messaggio per voi. Per un giovane fare sport e studiare dovrebbero essere due impegni principali. In questa fase così delicata, mentre siamo costretti a stare a casa, diventa più difficile fare tutte e due le cose. Ma nulla è impossibile. Per esempio potete continuare a studiare attraverso i corsi gratuiti online proposti da Smile Puglia, l'agenzia formativa che danni a opera Sansevero e supporta anche la nostra cestistica. Trova sui canali social Smile Puglia o contatta direttamente il numero 334 622 9356 e scoprirai tutti gli argomenti dei corsi e la possibilità di ottenere anche una borsa di studio. Quando termina la lezione potrai tranquillamente allenarti a casa e senza fare troppi danni. Vi saluto, ciao da Lino Lardo.